antonino pio l'artista medianico amedeo boldrini operaio tessile ha appena materializzato in una transe istantanea la moneta che è apparsa improvvisamente sul palmo della sua mano sinistra l'apporto non è stato materializzato nella bocca del medium come accade ad esempio presso il cenacolo umanità in movimento l'immagine è stata ripresa con una macchina fotografica e non è stata tratta da un video come avvenuto per altre documentazione di evolvenza la moneta è del tempo dell'imperatore romano antonino pio boldrini trapassato da alcuni anni aveva la particolarità di incidere nel marmo e su carta figure che ripeteva gli erano suggerite da entità extraterrestri dell'attronino pio